Buongiorno a tutti e bentornati Qua nella nostra galassia prima di iniziare il video Volevo ricordarvi di iscrivervi al canale Se non lo siete già e di attivare la campanella Per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video E' finito le tre E credo che tutti siano soddisfatti Dell'accaduto no? Voglio dire chi si aspettava di vedere Kianyu Sul palco ad annunciare la data di uscita Nessuno ma ancora prima Chi se lo aspettava nel trailer Dai colpo di genio di CD Projekt E Microsoft che L'hanno tenuto nascosto fino all'ultimo Bravissimi applauso A me sinceramente un po' barzotto è venuto Bene Bando alle ciance Alle tre abbiamo visto il nuovo trailer Che tra le altre ci porta a farci qualche domanda Sulle svariate metodologie per bloccare gli avversari Visto che la tipa simpatica Nel trailer ci mette in ginocchio con il suo sguardo Bene Questa è una domanda che ci si era posta un annetto fa circa Cioè se si potesse in tutte le missioni Svolgerle senza uccidere qualcuno Un anno fa vi avrei portato questo video Dicendo che le affermazioni fatte da CD Projekt Dicono che non si può non uccidere Alla fine della fiera siamo dei mercenari E il nostro lavoro è violento Ma oggi? Oggi in realtà CD Projekt fa un passo indietro E guardando a un anno fa Smentisce quell'affermazione Dicendo che attualmente tutte le missioni Possono essere svolte senza versare una goccia di sangue Parlando con Sasco Quest'ultimo afferma che In Cyberpunk 2077 Praticamente ogni pistola Praticamente ogni cyberware Si è in grado di usare le modalità non letali Sasco usa il praticamente Perché in Cyberpunk ci sono armi Che semplicemente sono troppo devastanti Per avere un'impostazione non letale Quindi non tutte sono escluso da questo elenco Però per gli amanti del peace and love Beh, sono stati accontentati Che dire d'altro? Il gioco uscirà il 16 aprile 2020 E supporterà per i PC gamer La tecnologia ray tracing Di cui è stata mostrata un'immagine E che in America del Nord e Canada Non esisterà la versione limited Quindi quella con statua del gioco Sempre parlando per i PC gamer Bene, con questo è tutto GG a tutti quanti